I carabinieri del comando provinciale di Crotone, con il supporto dei colleghi di Catanzaro, Vibo Valencia, Cosenza e dello squadrone Li Portato Cacciatori di Calabria, hanno dato esecuzione ad un provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro su richiesta della direzione distrettuale antimafia nei confronti di 31 persone, per 15 delle quali è stata emessa la custodia in carcere, per 7 gli arresti domiciliari e per gli altri 9 l'obbligo di dimora indagate a vario titolo per associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, usura, danneggiamento, associazione per delinquere, finalizzata la commissione di reati in materia di stupefacente, nonché per numerosi reati in materia d'armi di sostanze esplodenti e ancora stupefacenti. Il procedimento per la fattispecie di reato ipotizzate è attualmente nella fase delle indagini preliminari, nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali entreremo nel dettaglio.